l'occasione di pubblicare due nuove espansioni ha portato il buon wallace a creare una big box del suo house stralia vediamo i contenuti scatola comunque non propriamente big rispetto ad altri giochi ma comunque di dimensioni importanti è 30 x 30 x quasi 14 blocchetto segnapunti per la campagna in solitario inserita nell'espansione tasmania regolamento base cartoncini della prima e della seconda espansione vendetta degli antichi e tasmania l'espansione vendetta degli antichi consente a un giocatore di fare l'antico e giocherà quindi contro gli altri giocatori con regole speciali per la gestione dei mostri che sono queste qua per contro però i giocatori avranno porti più forti un avamposto e più flessibilità nella scelta dei personaggi è presente anche la versione in solitario per giocare contro antichi più forti e quella per la versione cooperativa senza un giocatore che muove gli antichi l'espansione tasmania è un'espansione per uno o due giocatori che aggiunge una nuova mappa e la campagna in solitario come ho accennato prima campagna che si sviluppa necessariamente in questo ordine qua con queste difficoltà qua usando gli obiettivi del gioco base nella campagna di volta in volta decidi di giocare su quale mappa che possono essere tre differenti le due classiche versione est e ovest oppure quella fissa di tasmania che vediamo fra poco lo scopo della campagna ovviamente è fare più punti quindi più punti fa il migliore è il risultato e in base alla vittoria la sconfitta di ogni singolo scenario queste sono le condizioni per l'obiettivo successivo inoltre inizi con dieci punti esperienza che puoi spendere durante la campagna per se vuoi acquistare truppe per la partita successiva solo per la partita successiva te le devi ricomperare di volta in volta le planche dei giocatori la mappa di tasmania versione normale fissa e versione modulare che compone casualmente ogni volta in questa mappa è presente un nuovo tipo di terreno intransitabile per chiunque i laghi queste due foglie che non c'entrano niente sono due scenari che ho stampato da board game geek il foglio aiuto la mappa base il posto per le carte qui ho messo le carte personalità e le carte rivelazione le carte antico gli obiettivi in solitario gli obiettivi della variante per due giocatori carte aiutante sono queste carte qua che fanno parte della promo data in occasione della pubblicazione delle due espansioni su kickstarter se vuoi usare gli aiutanti ne peschi due durante il setup e diventano disponibili per tutti i giocatori durante il tuo turno puoi usare uno o entrambi degli aiutanti e posizioni un tuo cubetto per indicare che l'hai usato ogni aiutante riporta un numero qua in basso a destra che indica quante volte per partita un giocatore può usare quell'aiutante ci sono anche due carte note sull'uso degli aiutanti carte mito per la variante in solitario dell'espansione vendetta degli antichi usarle ti metti di fronte a una sfida maggiore perché queste carte si pescono quando il segnalino del tempo dell'antico si ferma su uno spazio non illuminato e quindi nel turno in cui non riveli una carta rivelazione normale quindi qua riveli la carta rivelazione e muovi qua muovi come sempre però riveli anche una di queste carte mito che ti rompono le scatole carte mito per il giocatore che muove i mostri che sostituiscono le carte rivelazioni del base a entrambi i mazzi sono state aggiunte tre carte del promo di prima che hai visto in più carte aiuto per i giocatori e poi il contenuto di questo 3 66 tessere terreno per costruire randomicamente la mappa vedi ogni tessera riporta anche le risorse da posizionare e gli eventuali mostri da fare spawn sono presenti anche gli esagoni lago i segnalini progenie che sostituiscono le tessere degli antichi quando fai una partita a vendetta degli antichi si usano solo nelle partite appunto in cui un giocatore gioca come antico e hanno lato normale o lato pericoloso spazio per posizionare la scatolina con la miniatura di cthulhu che io non ho con sotto ci andavano e la scatolina li teneva fermi i segnalini dei punti vittoria che invece ho spostato nei contenitori altrimenti scappano da tutte le parti avamposti e porti li usi solo per le partite a vendetta degli antichi e gli avamposti sono una nuova tipo di unità militare che non muove che si piazza solo lungo la ferrovia e che si comporta come se fosse una fanteria i porti ops i porti invece sostituiscono il porto normale e hanno una capacità difensiva di quattro o poi due se vengono danneggiati le unità militari le tessere degli antichi secondo terzo e primo livello e le tessere per l'indagine scatolina con i pezzi dei giocatori scatolina con i materiali e le tessere sanità e punti vittoria e infine un sacchettino per randomizzare la posizione del tuo porto per ognuna delle tre mappe utilizzabili nella campagna in solitario vedi qua metti un cubetto del tuo colore altri 19 di un altro colore e li peschi uno a caso con quest'ordine qui per vedere da dove parte il tuo porto è un po macchinoso come procedimento perché devi ripeterlo per 10 partite volendo poi sostituirlo con un d20 un d13 e un d21